Musica Bellissimo Esatto Allora quest'anno abbiamo una colorazione personalizzata del team che è questo blu maculato con dei particolari verdi e fucsia che poi si riprendono anche sulla divisa diciamo che lo slogan del team quest'anno è Calm from Chaos E quindi appunto questa colorazione ci sarà sia per noi che facciamo il mountain bike sia per il team che fa la strada La bici rispetto all'anno scorso tra virgolette a livello di componentistica non cambia molto siamo sempre sponsorizzati da SRAM I pedali siamo liberi io monto look qua ho un 34 pressione delle forcelle ammortizzatore la forcella 115 ammortizzatore 50 Tu rimani sulla 32 davanti 100 mm Esatto e per la prima volta quest'anno monterò questa sella che ho già testato quest'inverno nel Cirocross e anche con la bici da strada che la trovo una delle selle migliori di sempre che è la Mirror di Specialized che è una sella fatta con tecnologia 3D e quindi niente basta Ciao Ciao Grazie a tutti.